L'autunno è la stagione prediletta dai cercatori di funghi che con cestini e bastoni si avventurano nei boschi e la ricerca di prelibatezze da portare in tavola. Tuttavia, quella che sembra essere una tranquilla attività all'aria aperta nasconde numerosi pericoli. Negli ultimi dieci giorni sono stati ben tre i cercatori di funghi che hanno perso la vita nel Terramano. Due nella sola giornata ieri, Giuseppe Di Luca, 82enne di Corropoli, e Aldino Ruggeri, 85enne di Tortoreto. In entrambi i casi registrati i fungaioli sono scivolati e precipitati in zone boscose, molto probabilmente a causa del manto particolarmente bagnato dopo le recenti piogge. Una notizia drammatica che torna a far riaccendere i riflettori su questa attività, spesso sottovalutata da chi si approccia a questa pratica senza le dovute precauzioni. Sì, diciamo che questo trend c'è da anni, quello dell'aumento dei cercatori di funghi, perché quest'anno in modo particolare, essendo stata una situazione esplosiva per quanto riguarda almeno la tipologia di funghi, che sono i porcini, chiaramente molte persone sono andate all'interno dei boschi senza la dovuta preparazione. Abbiamo incontrato intere famiglie con delle buste plastiche, situazioni veramente imbarazzanti nel complesso. Molte volte per prendere un fungo ci si avventura in un posto e forse sarebbe meglio lasciarlo. Questa cosa purtroppo può determinare questi eventi. Altro grande pericolo nel raccogliere funghi selvatici è senza dubbio il rischio di avvelenamento. Esistono centinaia di specie di funghi, molte delle quali sono difficili da distinguere occhio nudo. Errori di identificazioni possono risultare anche fatali. In Abruzzo ricordiamo che per essere abilitati alla raccolta dei funghi c'è bisogno dell'autorizzazione. C'è bisogno dell'autorizzazione di carattere regionale, occorre fare un corso di formazione, ogni 5 anni questo corso di formazione va replicato per essere abilitati alla raccolta dei funghi. Questo determina quando meno la conoscenza delle specie più note e più commestibili. Ma al di là di questo occorre andare in montagna, nei boschi con le attrezzature adatte, quindi scarponi con suola vibra che evitano lo scivolamento. Molte volte noi facciamo delle bellissime foto dei funghi, non possiamo raccogliere, lasciamo stare lì perché per un fungo non si può rischiare la vita o un incidente.